La priorità è quella di garantire una vita quotidiana il più normale possibile, quello che il governo chiede a tutti noi e questo passa anche attraverso l'utilizzo di quei sistemi di cui abbiamo a disposizione per tutelare le nostre vite e quindi mi riferisco ai vaccini e agli altri sistemi che sono stati individuati. Vaccino e rispetto delle regole, solo così si può uscire dal tunnel della pandemia, indica la rotta il nuovo prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, alla sua prima uscita istituzionale a Sant'Artemio dove ha incontrato il presidente della provincia Stefano Marcon. Ho detto a sua eccellenza che la nostra è una rete che funziona qui in provincia di Treviso, sempre ben coordinata dalla prefettura e siamo qua per lavorare assieme così come abbiamo fatto sinora. Il dialogo è l'unica strada. Dialogo essenziale anche con la cittadinanza, chiamata al rispetto di normative sempre nuove, soprattutto sul fronte delle certificazioni, collegato il tema dei controlli. Anche quando tutte le prefetture o forze di polizia hanno elevato sanzioni, non sono state mai il numero tale da far preoccupare. C'è stata una generale correttezza e accettazione di queste regole nuove. E se il predecessore Laganà ha lasciato la marca definendo i trevigiani responsabili, il nuovo prefetto si sbilancia fin da subito. Lo saranno senz'altro, non ho nessun dubbio. Sidoti, classe 1962, una laurea in giurisprudenza, è nato a Taormina e fino a qualche giorno fa ha retto la prefettura di Verbagna. Nella marca parte del passato della sua famiglia, tra il grappa e il piave. Suo nonno era il cavaliere di Vittorio Veneto. Sì, era il cavaliere di Vittorio Veneto, combatte la grande guerra. Nel presente i temi legati alla pandemia, compresi quelli economici, con un focus sul rischio di infiltrazioni criminali in un tessuto comunque ricco. E non manca un primo messaggio ai trevigiani. Di continuare come hanno sempre fatto, grandi lavoratori, grandi persone responsabili, pur sempre nel rispetto delle regole del vivere civile.